Benvenuti cari amici di Vox Italia TV ad un nostro nuovo approfondimento, sono molto felice di presentarvi l'ospite di oggi, abbiamo in collegamento con noi Magdi Cristiano Allam, giornalista, scrittore, saggista, già vice direttore del Corriere della Sera, grazie Magdi per aver accettato il nostro invito. È un piacere, saluto tutti gli amici di Vox, dell'associazione, del partito Vox Italia, a cui auguro successo, in una comune missione che è quella di riscattare la sovranità dell'Italia. Bene, sei entrato subito nel cuore del ragionamento, sappiamo che tu ti stai dando molto da fare sul piano culturale, che stai costruendo un'associazione che cercherà di imporre buoni temi, di diffondere buone idee, presso la nostra pubblica opinione, ci vuoi spiegare di più? Sì, io già nel 2014, conclusa la mia esperienza di parlamentare europeo, nel continuare a animare un gruppo, un gruppo che si chiama semplicemente Amici di Magdi Cristiano Allam, un gruppo culturale, compresi che fosse necessario promuovere un vero e proprio percorso di formazione culturale, perché mi rendo sempre più conto che quello che manca tra gli italiani, e manca anche in seno alla classe politica, è proprio la cultura, la capacità di rappresentare correttamente la realtà, la conoscenza della nostra storia, delle nostre radici, della nostra tradizione e la prospettiva, l'assenza di una prospettiva che sia chiara, che corrisponda al bene degli italiani. Ecco perché l'associazione di formazione culturale e di mobilitazione civile insieme ce la faremo, concetto da me elaborato nel 2014, che poi è diventato oggi una esortazione ripetuta anche dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ma che sta a significare un messaggio più profondo, e cioè che siamo tutti sulla stessa barca, o ci salviamo insieme o collasseremo sia come popolazione, sia come nazione, sia come civiltà. Insieme ce la faremo quindi è un invito a tutti gli italiani di impegnarsi su un fronte culturale per diventare protagonisti della scelta di riscattare la sovranità dell'Italia, di rimettere al centro il bene primario degli italiani e di far rinascere la nostra civiltà decadente. Magdi, tu da tempo denunci i limiti, per usare un eufemismo, di questa costruzione europea oligarchica. Hai l'impressione che il popolo italiano abbia maturato adesso una percezione più precisa di cosa è per davvero l'Unione europea, o ancora credi che l'europeismo a critico abbia gioco facile? Beh, intanto chiariamo che all'interno del Parlamento non esiste un solo soggetto politico è autenticamente sovranista. Non esiste un solo partito che dica chiaramente che bisogna uscire dall'Unione europea, che bisogna uscire dall'euro, che dica chiaramente che fin tanto che lo Stato italiano non recupererà il diritto, la prerogativa di emettere direttamente moneta sovrana a credito, non potrà esserci un autentico sviluppo. Chiarito questo, a livello della popolazione italiana c'è tanta mistificazione della realtà, brutto di una disinformazione che alimenta il disorientamento tra gli italiani. E questo poi porta alla rassegnazione, il ritenere che non ci sia una prospettiva diversa da quella che viene indicata dai poteri forti a cui noi siamo assoggettati. E questo provoca, la rassegnazione provoca una morte interiore, che è la morte peggiore, perché si sopravvive fisicamente ma spogliandosi, privandosi della propria dignità e della propria libertà. Ecco perché è fondamentale e vitale oggi promuovere la formazione culturale e successivamente una mobilitazione civile tra il maggior numero possibile di italiani che convergano su delle idee, su dei valori e su una prospettiva che si traduca a tutti gli effetti nel riscatto di valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà. Magdi, tu prima dicevi che gli italiani sono disorientati e manipolati dalla informazione. Tu conosci bene il mondo della grande informazione perché sei stato vice direttore del più importante giornale italiano, che è il Corriere della Sera. Quanta responsabilità ha, secondo te, la grande stampa per il clima che si è creato nel paese di disorientamento? Passiamo nell'era della cosiddetta informazione globale, dove attraverso la rete in tempo reale noi possiamo sapere, possiamo informare, possiamo condizionare le sorti dell'intera umanità. C'è un caos sul piano della comunicazione dove è diventato difficile persino riuscire a individuare il vero dal falso, se una notizia è vera o se la notizia è falsa, se una fotografia o un video sono vero, sono veri o sono falsi. Ed è in questo contesto qua che c'è il disorientamento. La stampa, intesa come stampa quotidiana, ma se vogliamo allargarlo anche alle grandi televisioni nazionali, hanno sicuramente avuto un ruolo sul piano del condizionamento in senso negativo della formazione culturale, ma siamo in un contesto ormai molto più ampio. La carta stampata in Italia ormai da almeno dieci anni è profondamente in declino, perché i giovani giornali non li leggono più. È diventato un prodotto appetibile da una certa fascia d'età in poi, poi la crisi economica ha fatto il resto, perché i giornali come le televisioni, soprattutto le televisioni senza pubblicità non vanno avanti e poi c'è come ho detto la concorrenza della rete, che è una concorrenza impari, perché il giornale nel momento in cui è in edicola ormai è vecchio sul piano delle informazioni, mentre la rete, come prima le televisioni, soprattutto le televisioni satellitali, consentivano di conoscere in tempo reale ciò che accade in qualsiasi parte del mondo. In Parlamento si sta discutendo di una nuova legge per contrastare l'omofobia. I promotori sono Boldrini, Scalfarotto, Zen e altri. Ieri abbiamo approfondito questo argomento e c'è chi paventa una deriva liberticida dietro la scusa di combattere le discriminazioni. Tu che impressione hai? Io dico che, come tanti giuristi hanno evidenziato, che la nostra Costituzione e le nostre leggi tutelano assolutamente tutti i cittadini, a prescindere anche dall'orientamento sessuale. In Italia non c'è la discriminazione degli omosessuali in quanto omosessuali. Quello che si vorrebbe invece accreditare non è tanto la sanzione di chi viola dei diritti sul piano dell'espressione, della manifestazione degli omosessuali, ma si vorrebbe legittimare l'ideologia omosessualista. Che cosa diversa rispetto al doveroso rispetto delle persone, a prescindere appunto dalla loro fede, dalla loro nazionalità, dal loro orientamento sessuale. Si vuole accreditare un'ideologia omosessualista che di fatto scardinerà del tutto quella che è la centralità della famiglia naturale, che piaccia o meno è il fulcro della rigenerazione della vita e quindi anche della salvaguardia e della continuità della nostra società. Perché piaccia o meno è solo il sodalizio tra un uomo e una donna che può rigenerare la vita. Ebbene se tutto ciò noi lo contestualizziamo in un'Europa che è diventata l'area del mondo che in assoluto ha il più basso tasso di natalità e le popolazioni europee sono a rischio di estinzione proprio perché fanno sempre meno figli, è l'Italia e il paese europeo che ha il più basso tasso di natalità e abbiamo il triste primato di essere la popolazione più anziana al mondo dopo il Giappone. Ebbene in questo contesto se noi ci volessimo del bene, se chi ci governa, chi sta in Parlamento avesse veramente a cuore la sorte degli italiani e il bene supremo dell'Italia, dovremmo focalizzare l'attenzione nella centralità della famiglia naturale, nel sostegno alla famiglia naturale, aiutando le madri, aiutando i giovani affinché siano messi nella condizione di poter rigenerare la vita perché senza figli noi comunque siamo condannati a morire, a scomparire come popolazione e come civiltà, a prescindere dal fatto che uno sia omosessuale o non sia omosessuale. D'altro canto l'omosessuale non sarebbe mai nato se non avesse avuto un padre e una madre. Ecco perché io sono fortemente preoccupato perché ci si concentra non su ciò che è la cultura della vita e della rigenerazione della vita, ma su degli aspetti che torno a ripetere senza venire mai meno al diritto delle persone in quanto persone, ma assumono una rilevanza negativa nel momento in cui scardinano quello che è il fulcro della nostra società e quello che è anche il fattore vitale per la rigenerazione della vita. Prima dicevi Magdi che l'Italia è il paese che in Europa fa meno figli dentro un contesto che è già deficitario. L'immigrazionismo spinto è l'altra faccia della medaglia di questa situazione o sono due fenomeni che non si toccano? No, sono due fenomeni che si toccano perché l'immigrazionismo è la risposta che i globalisti, che i promotori di un nuovo ordine mondiale vorrebbero dare la risposta che vorrebbero dare al crollo demografico dell'Europa, quindi l'Europa non fa figli e la risposta dal loro punto di vista è spalancare le frontiere e per sostituire la popolazione autottona mancante con questi giovanotti che provengono prevalentemente dall'Africa, ma anche dall'Asia, dal Medio Oriente e in parte anche dall'America Latina. Non è la stessa cosa, evidentemente lo vediamo ogni giorno, abbiamo attestazioni, testimonianze dell'incompatibilità che c'è tra certe persone che arrivano in Italia, che sono totalmente agli antipodi rispetto alla nostra civiltà, alla nostra cultura, che non hanno alcuna intenzione di integrarsi, che non sono qui per essere parte integrante di un processo post-positivo. Noi dobbiamo salvaguardare i nostri figli, dobbiamo salvaguardare i nostri nipoti, dobbiamo metterli nella condizione di poter continuare a vivere in un'Italia che garantisca a tutti la vita, la dignità e la libertà. Dobbiamo al tempo stesso, lo dico da ex immigrato in Italia, a me era un'altra Italia, quella degli anni 70, dico che dobbiamo aiutare queste persone bisognose a casa loro, soprattutto tenendo presente che l'Africa è in assoluto e non da ora, il continente più ricco al mondo. Quello che manca agli africani non è la ricchezza, ma è la formazione. L'Africa è ricchissima e gli africani sono in maggioranza poverissimi. C'è una discrepanza profonda che va colmata con la formazione e dobbiamo combattere contro quelle potenze che continuano a sfruttare gli africani. Queste potenze vanno nominate e sono in primo luogo la Cina. La Cina oggi è la potenza più colonialista che c'è al mondo. Quando si parla di colonialismo si pensa solo all'Europa, agli Stati Uniti, ma la potenza oggi più colonialista, più consistente e che continua ha la propria attività anche in Europa, anche altrove nel mondo, è la Cina, capital comunista. E poi c'è la Francia in Africa che continua a sfruttare le ricchezze degli africani. Noi dobbiamo fare in modo invece di dare formazione a questi giovani africani affinché diventino i protagonisti dello sviluppo delle proprie terre e possano trasformare queste terre in una realtà di benessere, possano diventare un ceto medio e di conseguenza anche promuovere un'autentica democrazia nei loro paesi. Questo è quello che un governo europeo responsabile dovrebbe fare, aiutarli a vivere dignitosamente a casa loro e aiutare le popolazioni europee affinché siano messe nella condizione di poter tornare a rigenerare la vita in percentuale adeguata a superare questo tracollo demografico e a riequilibrare la bilancia demografica. Agdi, tu hai voluto prendere anche il nome di cristiano proprio per testimoniare la tua adesione al cristianesimo. Ti riconosci nella chiesa di Papa Bergoglio? Pensi che siano cambiate un po' le cose da quando tu avevi preso questa decisione molto importante? Essere cristiano significa credere in Gesù Cristo, significa amare Gesù Cristo. Questo è il fulcro del cristianesimo. Si è cristiani se si crede in Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, nato, morto e risorto. La chiesa è un altro discorso. La chiesa è un altro discorso. Io ho ritenuto di essere stato un privilegiato quando era il 22 marzo del 2008, nella notte della veglia pasquale, io ricevetti il battesimo, la chiesa e l'eucarestia dall'allora pontefice Benedetto XVI. L'ho considerato come il giorno più bello della mia vita, ma io sono sempre me stesso. Quindi io nel momento in cui prendo atto che Papa Francesco legittima l'Islam come religione, concepisce il Corano come un testo sacro di parivalenza dei Vangeli, considera Maometto come un profeta, quasi fosse Gesù Cristo. Ebbene, proprio a maggior ragione, dopo essere stato musulmano per 56 anni e dopo aver maturato la decisione di abbandonare l'Islam non potrei mai continuare a riconoscermi in un Papa che sta tradendo Gesù, perché o si crede in Gesù o si crede in Maometto. Non si può credere in Gesù e legittimare Maometto. Gesù ci ha ordinato, ci ha insegnato di amare il prossimo, chiunque esso sia. Quindi i musulmani come persone vanno rispettate e amate cristianamente, rispettate laicamente e amate cristianamente. Ma l'Islam come religione è totalmente incompatibile, non solo con la fede cristiana, ma è incompatibile anche con la nostra civiltà, con le nostre leggi. Nel mio ultimo libro dal titolo Top Islam spiego la ragione per cui l'Islam è totalmente in contrasto con le nostre leggi, con le regole su cui si fonda la civile convivenza, con i valori che sostanziano la nostra civiltà e arriva alla conclusione che se noi vogliamo salvaguardare questa nostra civiltà che è laica e liberale e che garantisce a tutti la vita, la dignità e la libertà, limitatamente a casa nostra, all'interno dei nostri confini nazionali, senza fare guerre ai musulmani né all'Islam a livello planetario, però dentro casa nostra noi dobbiamo avere l'onestà intellettuale, il coraggio umano che per prima ebbe Oriana Fallaci, di cui mi onoro di essere stato un suo amico, di mettere fuori legge l'Islam come religione. Magdi, ti ha stupito all'epoca venire a conoscenza delle dimissioni di Papa Benedetto XVI? Credo che abbia stupito tutti, non soltanto me, perché è stato un gesto improvviso, in un momento in cui la Chiesa attraversava delle turbulenze, sia per ragioni finanziarie, sia per ragioni legate agli scandali della pedofilia che coinvolsero anche altri prelati della Chiesa, sia per l'onda lunga del discorso di Rattisbona del 12 settembre del 2006, quindi il tema dell'Islam, dell'opposizione da parte degli islamici, ma anche da parte di tanti ambienti ideologizzati filo-islamici in Occidente, l'opposizione al fatto che Benedetto XVI abbia semplicemente detto la verità in libertà, cioè che l'Islam è totalmente incompatibile con la ragione. La grandiosità di Benedetto XVI è stata di coniugare magistralmente più di qualsiasi altro Papa fede e ragione, arrivando al punto da sostenere il 12 settembre del 2006 nell'Università di Rattisbona che se una religione è in contrasto con la ragione, non è una vera religione. Il riferimento era non a caso all'Islam, quindi le dimissioni di Benedetto XVI mi hanno molto addolorato, mi hanno molto sconvolto, stupito e ritengo che la motivazione ufficialmente data da lui stesso, cioè le ragioni di salute, non siano valide perché era il 2013, siamo nel 2020, quindi sono passati 8 anni considerando anche il 2013 e Benedetto XVI è ancora lucido, è ancora capace di intendere e di volere ed è quanto si richiede da un Papa, non si richiede da un Papa che alla mattina si svegli e debba andare a fare footing, a fare le corse, fin tanto che è capace di intendere e di volere può fare il Papa e lo è ad oggi. Come unire fede e ragione lo spiegava già il grande Sant'Ommaso d'Aquino che evidentemente è un grande teologo come Benedetto XVI ha studiato e ha approfondito in maniera eccezionale. Senti Magdi, tu pensi che abbia ricevuto delle pressioni, andiamo verso le conclusioni di queste interviste, credi sia stato ricattato o in ogni caso che sia stata carpita con l'inganno, sia stata condizionata con l'inganno la volontà di Papa Ratzinger? Allora a riguardo si possono fare solo delle ipotesi, io non sono un vaticanista, non sono come dire addentro agli ambienti vaticani, non ho le confidenze di cardinali, né le voglio avere onestamente, non semplicemente non mi interessa, ma ripeto non regge la motivazione ufficiale secondo cui Benedetto XVI si sarebbe dimesso per ragioni di salute. ci sono stati degli interventi che hanno evidenziato il ruolo dell'allora presidente americano Barack Hussein Obama, di come la banca del Vaticano, l'OIOR, si ritrovò al centro di uno scandalo e di come ad un certo momento le transazioni finanziarie dallo Stato Vaticano e il mondo esterno che necessitano di un codice non poterono più essere effettuate per il blocco di questo codice. quello è stato in qualche modo il colpo di grazia al pontificato di Benedetto XVI, quindi c'è sicuramente una manovra finanziaria che lo ha costretto a rassegnare le dimissioni, questo ci deve ovviamente dopo aver approfondito quello che ho detto e sottolineo che non sono un esperto della materia, però c'è sicuramente qualcosa che non quadra nella versione ufficiale. Ti faccio un'ultima domanda e poi ti lascio perché so che hai molte cose da fare. Pensi che questo sia uno dei periodi più difficili per la Chiesa di Roma? Rischia di finire nell'indifferentismo la storia millenaria della Chiesa, la difesa del dogma, la difesa della dottrina tradizionale. Secondo te è questo uno dei periodi più pericolosi per la storia millenaria della Chiesa di Cristo? Allora io posso dire soltanto che il pensiero di Papa Francesco è un pensiero relativista, è un pensiero globalista, è orientato verso una unica religione mondiale basata sull'amore, cioè mettere insieme le religioni sostenendo che tutte le religioni si fondano sull'amore. Questa è evidentemente una negazione, una sconfessione del cristianesimo che non si fonda sull'amore ma si fonda sulla fede in Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, nato, morto e risorto, che ci ha insegnato l'amore nei confronti del prossimo. Ma se non si mette al centro Gesù Cristo, non si è cristiani. Ma voglio aggiungere, e qui veramente concludiamo, che non è un momento difficile per la Chiesa, è un momento difficile per tutti quanti noi. La Chiesa di Papa Francesco, per il fatto che si è schierata dalla parte del fronte dei globalisti, degli immigrazionisti, del nuovo ordine mondiale, oggi vive una grande sofferenza interiore, perché ci sono tanti sacerdoti, tanti vescovi, forse anche qualche cardinale, che sono preoccupati, sono preoccupati per una deriva, perché se non si mette al centro Gesù, semplicemente si rinnega il cristianesimo. Non si può sostenere che ebraismo, cristianesimo e islam siano più o meno la stessa cosa. L'islam è agli antipodi del cristianesimo, è esattamente l'opposto del cristianesimo. Bene, siamo tutti in una fase particolarmente critica, una fase che io paragono a quella dell'impero romano d'Occidente nel secondo secolo dopo Cristo, quando cominciò proprio il tracollo demografico, usciva da una pandemia anche all'epoca, questa è una interessante similitudine, tracollo demografico dovuto anche alle guerre e dovuto anche alla denatalità, anche all'epoca si diffondeva l'omosessualismo, così come c'era una crisi economica strutturale legata ad una iperinflazione, cioè l'ammontare della moneta circolante era superiore al valore dei beni e dei servizi reali e poi era venuta meno la certezza dei valori e delle regole e si era diffusa la dissolutezza sul piano dei costumi. Infine anche i romani per superare il tracollo demografico immaginarono che si dovessero spalancare le frontiere allo straniero, ai barbari e immaginarono che si dovesse accordare la cittadinanza a tutti coloro che risiedevano all'interno dell'impero romano e questo accadde nel 212 con la Costituzio Antoniniana, un editto emesso dall'imperatore Caracalla. La Costituzio Antoniniana è l'equivalente dello Iussoli di cui oggi si parla ripetutamente. Ebbene fu così che nel 476 il generale barbaro Odoacre depose l'ultimo imperatore romano Romolo Augusto. Romolo Augusto nel 476 aveva 13 anni. La fine dell'impero romano d'Occidente non fu dovuto alla forza dei barbari, ma alla fragilità intrinseca all'impero romano. Non fu un omicidio, ma un suicidio. Ed è lo stesso suicidio che si sta verificando in Europa. Ecco perché dico che l'Europa deve rinascere al proprio interno acquisendo la consapevolezza e l'orgoglio di chi siamo. Perché senza questo recupero su un piano culturale non potrà esserci quel miracolo. Sottolineo un miracolo perché ci vorrà un miracolo per riuscire a farcela, ma noi siamo in una fase in cui dobbiamo credere che questo miracolo potrà realizzarsi. Ovviamente rimboccandoci le maniche, mettendoci la faccia come recita il proverbio. Aiutati che Dio ti aiuta. Grazie davvero Magdi per questa stupenda intervista. Mentre tu dicevi che Papa Francesco forse crede in un amore universale, nella fusione di tutte le religioni esistenti, mi veniva in mente forse più la figura del grande architetto massonico che non del Cristo per come ci è stato insegnato nei Vangeli. Grazie ancora e speriamo di riaverti presto con noi. Bene, auguri a tutti gli amici di Vox Italia. Bene, cari amici di Vox Italia TV, vi abbiamo proposto oggi un pensatore che non ha certamente paura di andare controcorrente rispetto al pensiero relativista prevalente che occupa i nostri grandi media, ma la nostra missione è anche e soprattutto questa, quella di farvi ascoltare le voci delle persone più brillanti che il sistema mediatico prevalente al servizio degli interessi prevalenti di sicuro non ha nessuno interesse a valorizzare. Se apprezzate questo nostro modo di fare televisione, se pensate che la nostra voce sia utile nel palinsesto un po' manipolato, un po' vattato, un po' al servizio dei soliti noti che il panorama informativo propone, non fatevi scrupolo nel donare in favore di Vox Italia TV perché noi non abbiamo editori esterni, non abbiamo finanziatori occulti neppalesi, viviamo soltanto grazie all'entusiasmo e al sostegno di chi ci guarda, ci ascolta e un po' ci apprezza. Alla prossima!